La Elysium Sport di Agropoli, dopo l'ottima iniziativa degli sport games, si appresta ad organizzare un summer camp dedicato ai piccoli sportivi che vogliono trascorrere un'estate all'insegna della socializzazione e ai valori dello sport. Dal 14 giugno, giocosamente insieme con i tuoi piccoli, si legge nel comunicato tante attività ad attenderli per un'estate scoppiettante. Saranno organizzati gruppi ristretti di massimo sette persone, con due lezioni settimanali di scuola di nuoto, compresa un'alimentazione sana. Il tutto nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Per maggiori informazioni 0974 05 20 20. Bisogna però affrettarsi perché i posti sono limitati.